Allora, le persone quante complesse sono? Voi vivete in un mondo dell'estrema complessità e delle aspettative molto alte, perché effettivamente quando uno vuole vivere, condividere con un'altra persona, la sticella per alcuni magari è anche bassa, adattabile, per altri invece si alza sempre di più, perché devi pensare che devi condividere la tua vita più intima con qualcun altro, cioè non è una cosa di poco conto effettivamente, chissà cosa si cela dietro quella persona. Ma abbiamo tante soddisfazioni, abbiamo persone che ci chiamano felici e rendono felici anche noi. Quindi chi abbassa la sticella trova. L'altro giorno mi ha chiamato una signora di 73 anni, che era 70 anni lei, era una ex iscritta, era stata iscritta tanti anni fa, poi l'abbiamo chiamata perché abbiamo, conoscendola, sapendo come è la persona, avevamo visto che era giusta per un signore che si era iscritto da poco. E allora l'abbiamo chiamata e gli ho detto guarda lo vuoi incontrare? E lei ha detto vabbè sì guarda io sono ancora vedova, sono sola, lo incontro volentieri e lo ha incontrato. Dopo mi ha telefonato dopo un mese circa e mi ha detto guarda Valeria, io non ci avrei mai mai sperato perché pensavo che fosse impossibile e invece usciamo a cena, andiamo in giro, andiamo a vedere le città e ha detto stasera ci rivediamo di nuovo per andare al ristorante. Ha detto sono proprio felice. Che bello. Quindi ci sono, abbiamo tante tante soddisfazioni. Per fortuna dai. Vediamo un altro annuncio o me lo raccontate a seconda di... Allora abbiamo Giulio di 47 anni, un imprenditore ironico, di buona compagnia, con la passione per la musica classica, suona, è un pianista, suona proprio, ama viaggiare, ama sia la montagna che il mare ma anche le città d'arte, le mostre, i piccoli borghi, si interessa di economia, ha vissuto all'estero, ho conosciuto tante persone, i miei occhi hanno visto tante cose. Posso dire di essere un cittadino del mondo di mentalità aperta, è una persona interessante sicuramente da molti punti di vista, si è iscritto da poco. Cerca cosa? Tu Bianca l'hai conosciuto? No, 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 no. Quindi Valeria chi cerca? Cerca una donna anche coetanea. Lui è con una mentalità aperta appunto perché ha vissuto anche a Los Angeles per cinque anni, è stato in America, ha rapporti di lavoro con gran parte del mondo, quindi cerca una persona che abbia proprio una mentalità aperta, nessuna caratteristica particolare ma che non sia una persona fossilizzata sul fatto, apro la porta, esco, vado al lavoro, rientro e ho il cappuccino solo la mattina, la pizza solo il venerdì sera, insomma ecco anche scombinare le cose per lui va bene, nel senso che è una persona veramente che ha vissuto e visto tanto, non ha nessuna richiesta particolare. Quindi neanche territori immagino perché uno che gira assolutamente, almeno quello è un altro aspetto importante. Bianca ti viene in mente qualcun altro? Beh mi viene in mente una ragazza sarda che ho conosciuto la settimana scorsa, lei ha 38 anni però lo cerca dai 45 ai 50 diciamo, dice che i coetanei non hanno la testa, così dice lei, riporto le sue parole. Lei è una ragazza molto molto carina, minuta, ricciola, classica donna sarda perché comunque ha la pelle olivastra, ha il cappello castano, scuro, molto molto carina tra l'altro ed è anche una tipa molto indipendente perché ha avuto delle convivenze nella vita ma non ha mai concretizzato effettivamente un matrimonio dei figli, quindi lunghe convivenze ma che non hanno poi portato a grossi vincoli quando sono finite diciamo e si è anche creata una certa indipendenza, lei vive da sola, fa un po' di tutto, è una tipa molto aperta, ha un lavoro buono che la soddisfa, che le piace, le manca solo l'amore. Che quindi è una bella, è un bel profilo questa persona. Sì, sì, no, lei è una donna molto carina, minuta e lo vuole alto, assolutamente, è alta come me che sono bassa, ve lo dico, però lo vuole dal metro e ottanta in su. Oh mamma mia. Proprio preferenza per l'uomo alto. In famiglia basta uno di basso. Protettivo, anche in protezione magari c'è una cosa del genere. Sì, magari proprio un gusto personale, dopo ovviamente se c'è il centimetro in meno cercheremo di comincerla. Non è la fine del fatti. Via Valeria, a te c'è qualcun altro? Allora, abbiamo poi, vediamo Angela, 49 anni, un'insegnante, una donna che crede ancora nell'amore e che cerca un uomo con cui vivere giorno per giorno questo grande sentimento. Sono allegra, simpatica e di grande compagnia. Tra l'altro libera, non ha figli. Quanti anni ha? 49. 49, quindi anche giovane insomma. Sì, iscritta da poco. E poi abbiamo Nicoletta, una donna eclettica, una donna sempre anche un po' misteriosa perché non finisci mai di conoscerla, sorridente, assolutamente di bella presenza. 50enne e scrive, a volte mi cielo nel mio guscio, anche se esternamente sprizzo solarità. Sono eclettica e dinamica, amo stare in compagnia, mi dedico al nordic walking, ma non disdegno anche le cenette romantiche. Cerco una persona misteriosa, riflessiva, amante del suo lavoro e che sappia condividere le emozioni. Misteriosa. Lei è misteriosa perché è una donna che vuole un uomo misterioso per questo motivo. Un po' una persona che non sveli tutto subito, che lasci sempre qualcosa nel cassetto da tirar fuori durante il rapporto. E comunque è una cosa non facilissima, recensione positiva per un mio carissimo amico che sei anni fa ha trovato con voi la sua compagna e ora usciamo in quattro, era ora. Ah, che bello! Ah, bellissimo! Scrivetecelo anche sulle recensioni di Google perché siamo felicissimi. E molto spesso veniamo a saperlo così perché tante volte le persone si incontrano e poi non ci fanno più sapere niente. No, ma com'è possibile questa cosa? Perché uno è iscritto, si incontra e poi a un certo punto si tolgono il peso. Poi a un certo punto loro dicono, noi magari li richiamiamo e loro magari sono al lavoro in fretta e furia e ci dicono no, 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 sono a posto, ho trovato, ho trovato. Ma non ci dicono chi è la persona che hanno trovato. Proprio il peso, si tolgono proprio e dicono ah ah ah, se non li sento vuol dire che non ho bisogno e che sono felice, no? Sì, sì. Perché comunque il fatto che loro siano in contatto con noi, a volte ce lo dicono, a volte sì, ma a volte no. Se è come la persona che abbiamo visto prima ci scrivono anche papiri lunghi dove proprio ci dicono quali sono state le cose apprezzate, quelle meno, insomma. Ma per esempio questo sicuramente no. Ma secondo me il fatto che a volte non ci venga detto viene un po' proprio dal fatto ah, ho trovato, sono a posto, non ho più pensieri, sono tranquillo. Anche perché poi comunque è una cosa che si sviluppa con il tempo per cui magari dicono aspetta che non lo dico adesso, che porto sfortuna. Complimenti per il tema trattato ed un applauso era sempre splendida a condottrice Elena. Ah Elena, sempre, sempre. La Elena è bravissima. E comunque un grazie anche all'amica di prima che ha scritto quel messaggio dicendoci che l'amico ha trovato. È stato un gesto molto carino. Ecco, questo è stato un gesto, una generosità nei nostri confronti. È molto bello. E ti ha portato fosse un maschio addirittura. Ah beh, non lo so. Poteva essere anche un maschio, sì. Finalmente solo in quattro, sì, poteva essere anche un maschio. Perché molte le... Comunque grazie. Quindi, uomo o donna che l'ha scritto è stato un amico che ha fatto un gesto veramente molto generoso nei nostri confronti. Sì, ma infatti è vero. Io questa cosa non sapevo perché pensavo fosse quasi doveroso dire guarda che Pinca Pallina adesso si è messa insieme con me e Pinca Pallina dice guarda che tizio si è messo per qui. Quando uno dei due riceve altre proposte allora lì sono molto attenti nel farcelo notare. Sì, sì, in quel caso ne si. Ah, in quel caso. No, ma perché per esempio stamattina prima di venire in trasmissione mi ha telefonato un ragazzo iscritto che ha avuto molti contatti e mi ha detto guarda sospendi perché io adesso sto uscendo di nuovo con la prima persona che mi avete presentato perché ci siamo risentiti e rivisti, ecco questo va a finire che magari poi loro si frequentano, questo non ci chiede più contatti perché ha sospeso l'iscrizione e noi lo perdiamo. Sì, infatti, quindi questo è sempre per far capire. E noi non veniamo a sapere che magari sono anche sposati come certi che ci dicono dopo anni sì ma ci siamo sposati alcuni col Covid hanno procrastinato la data e quindi ci hanno detto sì ci siamo sposati a luglio, ci siamo sposati l'anno scorso. Eh no, fa piacere, fa piacere, fa piacere, fa piacere, fa piacere a noi ma non serve solo per noi, è veramente un salvagente, un salvagente o una speranza per chi ci segue e per chi vorrebbe ma non sa, non crede. Io voglio anche far vedere questo per tutte le persone che non sanno come funziona il Club di più, chiedete il libro, è gratuito e possono chiederlo anche tramite internet lasciando o il numero di telefono o l'indirizzo, c'è la possibilità di averlo come ebook o come cartaceo. Ah, quindi anche in carta è possibile. Che tanto è un libro molto molto simpatico effettivamente. Sì, c'è tutta la storia del Club e ci sono anche le testimonianze delle persone. Infatti, che uno almeno si mette nelle varie situazioni e si rende conto che se ne può venire fuori, che se ne può uscire. Assolutamente, è certo. Quali sono i casi adesso più difficili, Bianca? Quel signore che vi dicevo prima, il mio pensiero, quello che passa in ufficio per valutare tutti gli aspetti della storia. Ma perché vi sta sotto secondo me? Perché è detto una cosa molto importante che secondo me dovrebbe essere, bisogna stare sotto, ho voluto dire il termine, ma insomma seguire le cose che ci stanno a cuore. Si sta a cuore, bisogna sempre seguirle, sono un po' come i clienti, se li abbandoni alla fine prendono anche altre strade, se invece gli stai dietro ti stanno a cuore. Sì, dopo diciamo che lui è forse anche a volte eccessivo, nel senso che proprio vuole capire veramente tutti gli aspetti, quindi vuoi o non vuoi da qualche parte è facile che magari... Però vi mette sotto stress. Però, ma a parte il fatto di metterci sotto stress, mi fa rimuginare tutto il giorno a tutti gli aspetti di tutte le persone che conosco in maniera da capire quale potrebbe essere quella cosa che lo colpisce di più, cioè è per quello che mi sta facendo pensare molto, perché devo valutare tanti aspetti di tutte le persone che gli presento. Magari quella che ne è meno lo butti là ed è contento. Siamo in chiusura, Valeria, un messaggio. Io dico chiamateci perché vedo e me lo dite voi soprattutto che tante volte anche il solo fatto di parlare con noi è un fatto positivo che vi fa sentire più tranquilli, che vi fa stare più sereni, quindi senza nessun problema, senza nessun pensiero dovrò iscrivermi, non dovrò iscrivermi, tanto non siete vincolati a nulla, ma telefonate per avere delle informazioni e per capire se ci sono delle persone che potrebbero corrispondere alla vostra richiesta. Proprio stamattina parlavo con una donna che era molto titubante e che poi alla fine mi ha ringraziato e mi ha detto anche che ci vede sempre in televisione. Un bacio! Allora, grazie Valeria, grazie naturalmente anche Bianca del vostro rapporto, grazie a voi di averci seguito, aver partecipato con i vostri messaggi. Noi quando riceviamo le vostre chiamate giriamo sempre dove ci viene lasciato, ci viene autorizzato a parte vostra il numero di cellulare a Club Di Più. La cosa però più semplice è contattare direttamente Club Di Più e prendere accordi con tutto il team di professioniste, naturalmente in capo ci sono Valeria e Bianca, però ci sono tante consulenti che possono darvi una mano e aiutarvi in questo momento in cui c'è bisogno anche di stare insieme con gli altri. Grazie e buon proseguimento! Grazie a tutti!